Tre studenti spagnoli iscritti ai corsi del progetto Erasmus dell'Università di Trieste sono stati denunciati dai carabinieri per concorso in furto. I tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 22 e i 24 anni, sono stati sorpresi a rubare i capi di abbigliamento in un grande magazzino del centro commerciale a Muggia.